Un programma in collaborazione con... Un saluto ai telespettatori di Canale 85, Antenna Sud e Antenna Sud Live, Teleonda, oltre che ai nostri affezionati lettori dell'Oionio e dell'Adriatico. La rubrica, l'intervista della settimana, punta ai riflettori su Taranto e lo fa con il Presidente della provincia, nonché Sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti. Benvenuto Presidente. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Riflettori su Taranto, dunque sulla Puglia, ma su un'area strategica che sta vivendo una fase cruciale. Siamo a uno snodo, Presidente, una comunità che in questi giorni ha rilanciato la propria compattezza chiedendo di essere attore protagonista e di non subire più scelte calate dall'alto. E questa è la fase cruciale? Assolutamente sì, questo è il tema su cui ci stiamo confrontando e non è un caso. Se abbiamo sottoscritto io, il Sindaco di Taranto, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente dell'Adriatico Portuale, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale sostanzialmente abbiamo chiarito una cosa che potrebbe sembrare scontata ma in realtà a Taranto scontata non l'è mai stata. Cioè la compattezza degli attori, del territorio, politici e non, che hanno deciso di fare squadra. Perché noi siamo convinti che questo sia un momento particolare per Taranto, un momento decisivo per la storia di Taranto. Ci sono una serie di occasioni anche da cogliere e se non giochiamo bene questa partita perderemo delle opportunità che non si presenteranno più in futuro. E quando faccio riferimento, direttore, a queste opportunità non sto parlando tanto di Arcelor Mittal, su cui ovviamente va fatto un approfondimento a parte, ma mi riferisco anche al Porto. Il Porto che può diventare un volano importante per la ripartenza della nostra economia e per il rilancio del nostro territorio è che è ovvio che deve essere gestita, governata, tutti quanti insieme, dal territorio perché non può essere che arrivino imprese da fuori e non vengano rispettate le maestranze locali. Giusto per, come dire, mettere sul tavolo un primo elemento di discussione. Quindi il Porto con la riassunzione di tantissimi nostri giovani che sono fermi in un limbo da anni. Quindi queste opportunità per il territorio devono essere gestite, governate tutti quanti insieme dagli attori del territorio per evitare che nelle nostre divisioni si innesti qualcun altro e come in passato per evitare di svendere il nostro territorio per pochi spiccioli. Ecco, una triangolazione importante in queste ore, Taranto, Bari, Roma. Torniamo alla vicenda ex Ilva, a Seromitta. La città rivendica quantomeno un progetto che, come dire, ricalchi il modello Genova. Quindi questa è la base di partenza? Assolutamente sì. Noi partiamo da una considerazione, anche questa potrebbe apparire scontata. Noi, tutto il territorio tarantino, ha subito ingentissimi danni per tutta la questione ambientale. Danni soprattutto al bene primario, che è quello della salute, ovviamente il bene principe da tutelare. Ma anche alla nostra economia, danni all'agricoltura, danni al turismo. Quindi noi siamo convinti che la Puglia, l'Italia e l'intero Europa sia in credito con il nostro territorio. Motivo per cui non possiamo più accettare che, anche rispetto alla questione Arcelor, possano essere portate avanti non solo delle trattative, perché già al tavolo delle trattative dovrebbero essere seduti i rappresentanti del territorio, ma addirittura che si giunga a prendere delle decisioni che poi devono essere, come diceva il direttore, calate sulla nostra testa e sulla testa dei cittadini tarantini. Questo non può essere più consentito. Così come anche sul tema inquinamento, noi ormai dobbiamo mettere la parola fine. Qui chi vuole produrre può farlo a condizione che non si inquini. Quindi ormai tolleranza zero, su questo siamo assolutamente compatti. Ma la cosa che ribadirò, che ribadiremo a Conte il 5 di pomeriggio, alle 17 del 5, sarà proprio questo. Dice, noi non siamo delle comparse in questa vicenda. Noi pretendiamo di essere gli attori principali, insieme al governo, per carità, che è giusto che abbia voce in capitolo, questo è fuori discussione. Ma le decisioni devono essere condivise da tutti quanti noi, con il Presidente Conte. E devo dire un ulteriore passaggio che mi piace fare. Saluto anche con gioia, con favore, il passaggio del CIS dal Mise alla Presidenza del Consiglio direttamente, così come è successo già per il CIS di Foggia. Sperando quindi che il tavolo riparta, riparta con rinnovato spirito, con ritrovata lina, per cercare di accelerare anche una serie di investimenti che sono strategici per il nostro territorio. Ecco, infatti parallelamente alla vicenda ILVA, ex ILVA, c'è il CIS, il Contatto Interistituzionale di Sviluppo, c'è il Cantiere Taranto, il Decreto Taranto. Quindi ora anche da questo punto di vista si chiede concretezza. Beh, per forza, perché il motivo per cui ci siamo distinti in negativo negli anni scorsi, non è un problema che ha riguardato solo Taranto, per la verità, ma la Puglia in particolare, è l'incapacità di spendere delle risorse che pure ci sono. E credo che ora questo errore non possiamo più ripeterlo, no? Quindi noi dobbiamo avere delle risorse disponibili, dei progetti chiari che siano utili per il territorio, non servono più cattedrali nel deserto che poi nessuno utilizza e che restano lì abbandonate per anni, ma abbiamo necessità di spendere soldi su progetti utili. E su questo dobbiamo assolutamente accelerare, motivo di confronto sarà anche questo con il Presidente Conte. Ecco, la provincia ionica, nell'ambito del crocevia per l'area ionico-salentina e per la Lucania, ma non solo, ha bisogno di recuperare un gap sul piano infrastrutturale. Ecco, la provincia ha messo in campo una serie di opere, soprattutto sul piano della viabilità. Forse, ecco, sulla regionale 8 ci si attende anche lì un passo in avanti. Sì, assolutamente sì. Noi stiamo operando su due livelli differenti. Dobbiamo manutenere le strade provinciali che hanno bisogno di manutenzione e rispetto a questo, con i miei uffici, stiamo immaginando una serie di iniziative, un global e quant'altro, per cercare di garantire la sicurezza lungo tutte le strade provinciali. Ma, secondo livello, partendo dal presupposto che le infrastrutture viarie della nostra provincia, del nostro territorio, non sono assolutamente adeguate ai traffici, a quelle che, come dire, sono le esigenze del 2020, che non sono più quelle di 50 anni fa. Quindi, rispetto a questo, abbiamo bisogno di infrastrutture strategiche nuove e, come dire, la regina di queste infrastrutture è assolutamente la regionale 8, di cui si discute da una ventina d'anni, ma che ancora non vede la luce. E, non molto tempo fa, un mese otto fa, qui abbiamo fatto una conferenza stampa di lettore, durante la quale abbiamo annunciato che, in realtà, un importantissimo passo avanti è stato fatto, perché siamo ancora in fase di progettazione rispetto alla regionale 8, perché, finalmente, abbiamo depositato in regione un progetto definitivo che il comitato, che l'ufficio via della regione, ad un primo esame, ha detto che va bene e che, quindi, oggi, mentre noi parliamo qui, lo stanno visionando a Bari, il comitato via, è riunito. E, quindi, sono convinto, sono molto fiducioso, che riusciremo ad avere, quanto prima, il parere via per passare, poi, veramente all'appalto e alla fase esecutiva dell'opera e, uno, per il rilancio della nostra provincia, che, ovviamente, è l'obiettivo primario, ma, due, per non perdere i soldi, perché rischiamo, ecco il ragionamento che si faceva prima, rischiamo che questi soldi vengano, come dire, spostati da altre parti e sarebbe un ulteriore danno, un ulteriore beffa per il nostro territorio, per la nostra terra che, invece, ha, assolutamente, bisogno della regionale 8, ma anche di altre opere infrastrutturali perché, già la zona intorno a Taranto, non mi vorrei dilungare molto, ma mi piace sottolineare un paio di aspetti anche la zona intorno a Taranto ha necessità di una serie di aggiustamenti la strada che da Taranto porta a Statte, piuttosto che la strada di Punta Penna che si blocca lì a ridosso di Paolo VI, vicino alla stazione Nasisi, anch'essa oggetto di finanziamento tutte queste parti di territorio devono essere raccordate e poi c'è bisogno della tangenziale nord che consenta di girare dietro Massafra per, come dire, arrivare direttamente nella zona più alta, quindi, della nostra provincia quindi una serie di arterie che devono rientrare in un piano complessivo, in un master plan che potrebbe consentire, qualora fosse realizzato il nostro auspicio potrebbe consentire veramente la ripartenza della nostra provincia senza infrastrutture, non si va da nessuna parte Le province hanno gestito e stanno gestendo in questa fase una vicenda delicata agli effetti del coronavirus la provincia di Taranto si è distinta non c'è stata un'ordinanza di ulteriore chiusura delle scuole ma di sanificazione delle stesse ecco, qual è il quadro, il bilancio che può tracciare anche qui mi pare che ci sia stata una forte coesione con i comuni la scuola e non solo, le istituzioni tutte Sì, assolutamente sì mi piace ricordare che già quando si è presentata l'emergenza coronavirus qua in provincia si è tenuto un incontro al quale ha preso parte anche Sua Eccellenza il Prefetto e il Dottor Michele Conversano responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL Tarantina con tutti, dico tutti, i sindaci della provincia con i quali c'è la massima collaborazione possibile siamo tutti colleghi e abbiamo avvertito la necessità di confrontarci con sì, il Prefetto ovviamente ma con l'autorità sanitaria per capire cosa fare in questa situazione tant'è vero che quando poi si è presentato il primo caso quello ormai purtroppo nuto di Torricella sempre tutti quanti insieme abbiamo deciso di chiudere le scuole noi sindaci non perché, come dire, si chiudessero le scuole per il coronavirus per l'emergenza coronavirus ma noi, perché poi lì sarebbe scattato un meccanismo che avrebbe portato quindi magari il Ministro della Sanità ad intervenire su apertura e chiusura a scuola noi non ci siamo addentrati in questo campo noi abbiamo fatto una riflessione che credo sia stata una riflessione di buonsenso siccome la provincia città è stata la prima provincia pugliese a presentare questo caso che è vero che ha riguardato Torricella però ci sono, come dire, spostamenti di cittadini fra Torricella e i comuni limitrofi quindi noi, per tagliare la testatura abbiamo ritenuto di destinare la maggiore attenzione possibile a quelli che sono, come dire, gli immobili più delicati per antonomasia, cioè le scuole dove dentro stanno i nostri figli quindi tutti i sindaci, in maniera compatta, all'unanimità hanno deciso quindi di chiudere le scuole per procedere ad una sanificazione ad una igienizzazione degli ambienti che è un'attività straordinaria che già va fatta di solito si fa quando si riprende l'attività scolastica dopo le vacanze piuttosto che dopo le competizioni elettorali per bonificare i seggi quindi tutto questo va bene noi abbiamo ritenuto di farla in questo preciso momento storico uno per garantire, ovviamente, la, come dire, salute e la tranquillità di tutti i nostri figli che sono la cosa più importante che abbiamo ma anche per dare un segnale di compattezza e di serenità perché, chiudendo sull'emergenza coronavirus quello che rischia di fare più danni in assoluto più del virus stesso è un inutile allarmismo tenere la guardia alta assolutamente sì le istituzioni devono essere compatte pronte ad applicare i protocolli così come stiamo facendo abbiamo firmato tutti quanti ormai, si può dire, i sindaci della provincia ordinanze di quarantena ai nostri concittadini quindi questo va assolutamente fatto ma non possiamo farci prendere dal panico perché veramente rischieremo di far precipitare una situazione che invece può essere sotto controllo quindi il vero contagio è la psicosi che bisogna evitarlo ecco, a proposito di ricadute negative purtroppo si stanno registrando su vari comparti dalla moda al tessile al turismo e non solo però c'è una forte reazione da parte degli attori del mondo produttivo locale penso alla sua Castellaneta Castellaneta Marina Castellaneta di cui lì è il sindaco c'è in questi giorni la notizia di un importante progetto per la realizzazione di una cinecittà in Puglia al parco Felifonte quindi diciamo accanto a queste notizie non proprio positive si registrano importanti progetti devo dire che sono particolarmente felice che a Castellaneta come dire la situazione sia in evoluzione perché proprio in riferimento all'ex parco Felifonte da lì citato quello che era questo parco divertimenti sostanzialmente è stato poi smembrato in due parti un 60-70% del vecchio parco è andata a degli imprenditori del settore agricolo ma di livello quindi la famiglia De Lisi con i loro soci stranieri che hanno realizzato lì un opificio importantissimo quello di frutti rossi per la lavorazione del melograno come tutti quanti sappiamo la restante parte sta come dire è oggetto di un progetto importante che per la verità già in passato è stato immaginato e c'è stato un primo tentativo di realizzazione credo nel 2011 ancora non ero sindaco all'epoca si parlava dei Valentinos Studios quindi c'era questa idea perché Castellaneta è la patria di Rodolfo Valentino il nostro concittadino più importante ma forse uno degli italiani più noti nella storia del cinema soprattutto all'estero in America in particolare quindi c'era già stato un primo tentativo di realizzare lì un set cinematografico una piccola cinecittà qui in Puglia hanno ripreso questo progetto per la verità in comune ne abbiamo discusso poco ancora perché credo sia in una fase assolutamente embrionale ma sono convinto e mi auguro che possa come dire portare frutti anche questa ulteriore iniziativa perché noi come rappresentanti delle istituzioni se ci sono investimenti sul nostro territorio siamo comunque contenti se poi si investe in cultura e se come io auspico però ripeto non c'è ancora stato un confronto con i proponenti di questa iniziativa come io auspico si potranno intitolare questi questi studi questa piccola cinecittà pugliese a Rodolfo Valentino credo che per tutti noi castranetani sarà un ulteriore motivo di vanto ed è quello che auspico fortemente due ultimissimi flash presidente ecco tutto questo ha bisogno diciamo parliamo della provincia quindi degli sforzi messi in campo di una dotazione di organici più importante ecco a che punto è la macchina amministrativa la provincia sostanzialmente era lì per essere chiusa io non voglio ripercorrere tutta la storia delle province che tutti quanti conosciamo perfettamente del rio in poi quindi c'è stato un momento proprio dove sostanzialmente eravamo alle soglie della chiusura delle province beh oggi dopo che il popolo si è pronunziato contro la chiusura delle province noi siamo tra virgolette tenuti a farle ripartire per far ripartire le province abbiamo bisogno di risorse economiche e di risorse umane rispetto a questa rispetto a questi due temi la provincia ha una dotazione organica che non è assolutamente adeguata numericamente a quelle che sono le competenze che sono rimaste in capo alla provincia e a ulteriori incompense che ci stanno come dire arrivando dalla regione soprattutto in materia ambientale quindi serve sostanzialmente fare due cose uno ringraziare i nostri dipendenti i nostri lavoratori che in una situazione di assoluta difficoltà comunque riescono a dare risposte ai cittadini alle imprese ai tecnici a tutti coloro che si interfacciano con la provincia ma va da sé che non ce la fanno più perché ci sono pensionamenti da tenere in considerazione ferie malattie c'è comunque l'assoluta necessità di procedere ad un potenziamento dell'organico quindi bene quello che abbiamo sono tutte persone volenterose che in situazioni di difficoltà fanno fare comunque bella figura alla provincia ma abbiamo bisogno di rimpolpare come dire la nostra macchina amministrativa ed è quello che stiamo cercando di fare proprio in questo periodo per chiudere Presidente il 2020 potrà essere l'anno della svolta ecco qual è il suo sogno nel cassetto io sono convinto che sarà un anno importante potrebbe essere un anno di svolta se riusciamo a mantenere questa compattezza istituzionale e se da Roma finalmente comprendono che dalle parole bisogna passare dei fatti perché in tanti quindi di diverso colore politico si sono impegnati nei confronti di Taranto ma di concreto abbiamo visto poco negli ultimi anni beh speriamo che oggettivamente si cambi passo ed è questo come dire l'augurio che non solo faccio a me ma che faccio a tutti i tarantini a tutti i residenti della provincia ionica perché se tutti quanti rimbiamo nella stessa direzione io sono convinto che veramente può ripartire questa nostra bellissima terra ringraziamo i telespettatori di Canale 85 Antenna Sud Antenna Sud Live Teleonda quanti ci seguono sui social e sui settimanali lo Ionio e l'Adriatico e ringraziamo in particolare il presidente della provincia di Taranto nonché sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti grazie presidente grazie a voi a presto buona giornata arrivederci a presto